Si rafforza dirigendosi verso la Repubblica Dominicana e Haiti, l'uragano Irene, primo uragano della stagione, ha raggiunto la categoria 2 sulla scala Saffir-Simpson, che ne prevede 5. Si muove con venti a 160 km all'ora. A Porto Rico ha provocato l'esondazione di fiumi e la caduta di alberi e costretto 800 persone a trovare riparo in rifugi d'emergenza. 800.000 persone sono rimaste senza elettricità. L'uragano Stamani si trovava a 160 km a est di Puerto Plata, in Repubblica Dominicana. Dovrebbe abbattersi su Haiti e poi mercoledì sulle Bahamas e dirigersi verso le coste della Florida. Potrebbe intensificarsi raggiungendo categoria 3. Ad Haiti è allerta massima, sono state assunte misure preventive per evacuare la popolazione a rischio, popolazione già provata dal grave terremoto di oltre un anno e mezzo fa.